L'area intorno alla moderna Parigi è stata abitata da molto tempo, precedendo l'insediamento romano di migliaia di anni. Ma il nome Parigi deriva dalla tribù gallica Dei Parisi, che avevano stabilito un insediamento nell'area della città attuale, ma la posizione esatta di questo insediamento è ancora oggetto di disputa da parte degli archeologi. Durante la conquista di Giulio Cesare della Gallia, le tribù galliche furono sconfitte e la Gallia fu annessa dalla Repubblica Romana in espansione aggressiva. Così Lutetia Parisiorum divenne una città romana nel 52esimo avanti Cristo, iniziando così l'era romana di questa città, che sarebbe durata oltre 500 anni. Nel II secolo d.C., Lutetia aveva già avuto una crescita notevole. Si stima che il numero esatto di abitanti, al suo picco massimo, sia stato di un massimo di 10.000 persone.